Se io tra voi, corpi santi Devo parlare a me che ho fatto, ma vero? Sono molto contento Penso che sarà molto interessante vedere chi passa A questo punto spero di passare Beh, è un'ottima opportunità Quando scrivo una canzone la scrivo e spero che piace in realtà Poi il 90% delle canzoni che faccio non le ascolta nessuno Davvero non ci credo